La Fraternità dell'Aici in prima linea per quanto riguarda le politiche sociali del Comune di Arezzo è questa la decisione presa dalla Giunta Aretina, arriva al plauso della Lega, perché? Sicuramente perché siamo stati precursori di questa idea, infatti l'abbiamo lanciato alcune settimane dietro in modo che la Fraternità, visto che doveva da un attimino lasciare quelli che sono gli immigrati che gestisce chiaramente dargli in sostituzione naturalmente riportarla a quello che sono le fondamenta e nell'alvio naturalmente naturale di dare gestione a quelli che sono i servizi alle persone in quanto da circa quasi 800 anni è questo il suo scopo sociale e quindi riportare un attimino ad attivarsi verso gli aretini e verso la città invece che naturalmente occuparsi dei migranti Ecco, nella pratica gestirà anche la Casa delle Culture e la Fraternità d'ora in poi? Beh, questo naturalmente era l'idea iniziale che avevamo lanciato proprio perché Oxfam era la fine naturalmente di quella che è la gestione della Casa delle Culture, l'idea che avevamo lanciato è stata primordiale, come dicevo, è stata proprio quella di dare alla Fraternità la possibilità di gestire i servizi naturalmente della Casa delle Culture, visto che è un SP quindi può dare servizio alle persone anzi è il suo scopo principale e questo può realizzarlo grazie anche al personale che ha a disposizione attualmente e che naturalmente può integrare Fra le iniziative che la Giunta ha stabilito di dare alla Fraternità ci sarà anche quella che è la morosità incolpevole quindi tutti quei cittadini aretini che purtroppo per varie ragioni non sono in grado di sostenere l'affitto della propria abitazione quindi sarà questa un'occasione per dargli e quindi la Lega naturalmente è sempre della parte dei cittadini e il nostro mantra prima gli aretini non sono solo parole ma stiamo portando a compimento e dando dei fatti